Questa mattina presso l'aula polifunzionale dell'Istituto Comprensivo Maschali è stato realizzato un incontro formativo sul tema Vaccini, una protezione per i soggetti fragili, destinato ai genitori degli alunni frequentanti le sezioni di scuola dell'infanzia di Piazza Dante. Il delicato tema è stato trattato dal dottore Mario Cuccia, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Epidemiologia dell'ASP di Catania, alla presenza della dottoressa Genoveffa Mandolfo, responsabile dell'Unità Operativa di Igiene Pubblica e del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Maschali, Maria Cettina Maccarone. I numerosi genitori presenti hanno avuto l'opportunità di ricevere preziose informazioni sul tema delle vaccinazioni ed esaurienti risposte alle domande poste al dottore Cuccia nel corso del dibattito. La nostra scuola, spiega il dirigente scolastico, la professoressa Maccarone, ha sempre avuto a cuore la tutela della salute degli alunni e dell'intera comunità scolastica. L'incontro ha consentito ai genitori presenti di acquisire maggiore consapevolezza sull'importanza della prevenzione sanitaria e di superare eventuali paure e pregiudizi derivanti da informazioni sommarie e devianti. Ho apprezzato la disponibilità delle autorità sanitarie intervenute con grande professionalità e competenza.